Buongiorno, eccoci qua. Oggi parleremo nuovamente della ormai famosa trappola per roditori e insetti striscianti. Una trappola, come abbiamo detto, molto resistente e multicattura. Perché multicattura? Perché permette di catturare più di un topo. In pratica un topo, una volta andato in trappola, tende a richiamare altri simili. In questo modo si ha una cattura multipla. C'è da dire una cosa, non è necessario introdurre la fascia collante Rodent Stop Mini. Eccola qua. Questa non è necessario introdurla. Perché il topo, grazie alla sua capacità di intrufolarsi attraverso qualsiasi fessura o pertugio, ecco qua, per istinto tende naturalmente ad infilarsi in questi fori. Uno, eccoli qua. Quindi, qualora non si volesse catturare in trappola attraverso questi sistemi di cattura il topo, si può tranquillamente utilizzare la trappola senza fascia collante. In questo modo potete tranquillamente liberare i roditori una volta entrati in trappola. Vi consiglio di liberarli molto molto lontano affinché questi non possano più ritornare.